I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, nell'ambito di un articolato piano a contrasto del fenomeno del contrabbando di sigarette in città, hanno sequestrato 105 kg di sigarette e di contrabbando. In particolare, le fiamme gialle hanno notato un'autovettura con due persone a bordo, un uomo e una donna, che viaggiava in autostrada direzione Palermo con un'andatura eccessivamente sostenuta. Pertanto, l'autovettura è stata fermata all'uscita dell'autostrada allo svincolo di Villa Abate. Nel corso dell'ispezione dell'automezzo, risultato noleggiato, sono state trovate più di 500 stecche di Merit e Chesterfield, prive del previsto contrassegno dei monopoli di Stato, che dalla loro vendita al minuto avrebbe fruttato più di 18.000 euro. L'uomo di 37 anni, palermitano, residente nel quartiere Sperone, è stato arrestato e sottoposto all'obbligo di dimora, con divieto di allontanamento nelle ore notturne. La compagna, di 22 anni, è stata invece denunciata a piede libero in concorso per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'attività di servizio si inquadra nell'ambito della costante azione di controllo economico del territorio, assicurata alla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano tutto il territorio della provincia.